Buonasera, siamo qui per la mostra di Alfredo Futuro, sì all'amicizia. Accanto a me c'è il sindaco di Grave Inchianti, Paolo Sottani, al quale adesso lascio la parola. Buonasera a tutti gli intervenuti. Questa è una mostra per l'ennesima volta a celebrare Alfredo. Per noi è una persona oramai del nostro territorio molto conosciuta, è la verità, lo sto dicendo perché è la verità. Oltre ad essere una persona simpaticissima e con carattere, cerca sempre di reagire a tutto, è una persona che comunque per il nostro territorio ci crede, ci crede tantissimo ed ha fatto veramente tantissime opere, tante cose differenziate e allo stesso tempo siamo qui in questo luogo, nel luogo forse, nel punto forse dove Alfredo è riuscito a esprimere il meglio di sé, no? Questo, la San Crescizzano è il punto dove Alfredo è riuscito a esprimere il meglio di sé e ha sempre avuto un supporto su questo dalla macina e quindi credo che il luogo migliore per questa mostra non ci potesse essere. Vi ringrazio ancora, ringrazio anche per le riprese Over the Sky e Virginia Jorga Ollus. Grazie a tutti gli intervenuti e alla prossima, grazie e arrivederci. Grazie. Grazie.